Sequestrati a Napoli 13 quintali di abiti falsi. Ieri mattina due agenti del commissariato vicario a mercato, non in servizio, transitando in via Pietro Colletta hanno notato una persona che stava trasportando una busta dalla quale fuoriuscivano numerosi capi di abbigliamento. I poliziotti hanno seguito l'uomo che, alla vista di una volante sopraggiunta come rinforzo, è entrato velocemente in uno stabile, dove è stato bloccato e trovato in possesso di numerosi giubbotti contraffatti contenuti nel sacco. I poliziotti hanno controllato i locali in cui hanno rinvenuto numerosi bustoni contenenti oltre 13 quintali di capi di abbigliamento e accessori recanti in marchi contraffatti, nonché in numerose etichette di note griff. Il 37enne senegalese è stato denunciato per ricettazione e per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, mentre i locali sono stati sottoposti a sequestro.